A sorpresa, a domenica in, è intervenuto in collegamento telefonico Fedez, nel corso dell'intervista in studio che Mara Venier ha realizzato con Orietta Berti, la quale con il rapper milanese e Achille Lauro ha confezionato il brano Mil. Prima di parlare della collaborazione musicale, la conduttrice veneta ha chiesto notizie circa la salute dei De Ferragnez, entrambi risultati positivi al Covid nei giorni scorsi. Chiara è negativa, giusto? Ha domandato la zia. Chiara oggi è negativa, io no. Va bene, un po' di pazienza presto sarai negativo anche tu, il commento confortante della padrona di K. Durante il collegamento c'è stato anche un momento di imbarazzo. Gli autori del talk di Rai 1 hanno confezionato una clip per omaggiare Fedez e Chiara. Ho un filmato per voi, per te e Chiara, ha annunciato la Venier, che però ha dovuto stoppare il lancio in quanto il rapper non aveva manco acceso la tv, pensando probabilmente di non essere in diretta. Così la Gafes sono al telefono, non vedo nulla. Aspetta che accendo la tv. Tanto è indifferita, ha detto Fedez. No, mi devi dare il via tu. La risposta di Mara che, prese in contropiede, ha piegato la testa ridendo e rimanendo in silenzio alcuni secondi per via dell'intoppo. Alla fine il cantante si è sintonizzato su Rai 1, gustandosi il video omaggio che ha mostrato una serie di immagini della sua famiglia, impreziosite dal tappeto musicale di Tu sei il primo posto in quest. Terminata la clip, è intervenuta anche la Ferragni, grazie Mara, mi sono commossa come sempre quando ascolto questa canzone. Ciao, siete meravigliosi, il congedo alla coppia della Venier. Sui social diversi utenti hanno mugugnato ricordando i piccati attacchi che Fedez ha mosso nei confronti della Rai nei mesi scorsi. Il rapper parlò di censura da parte della TV di Stato, sollevando un polverone. Per questo, a qualcuno, il collegamento con tanto di clip omaggio trasmesso a Domenica in è parso non del tutto azzeccato.